Home rimedi per infezioni fungine Yogurt Il rimedio più semplice e più facile a casa per curare le infezioni fungine è lo yogurt. Esso contiene batteri buoni che aiutano a uccidere i funghi nel vostro corpo e ripristinare l'equilibrio del sistema. Ciò è particolarmente utile nel trattamento di infezioni fungine candida, dove yogurt può essere applicato esternamente nel region.it vaginale fornisce immediato sollievo dal dolore prurito. Mangiare yogurt senza zucchero andrà a beneficio vostra salute immensamente e prevenire le infezioni fungine nel vostro corpo. Aceto di mele Aceto di mele è un antiossidante naturale e ha un forte potere antimicrobico. E' un ottimo rimedio per il trattamento di infezioni fungine. La sua applicazione sulle zone colpite aiuta a contenere la diffusione e distrugge l'infezione causando efficacemente funghi. Ammollo in una vasca da bagno in cui l'aceto di sito di mele è stato aggiunto, vi aiuterà a curare l'infezione fungina sulla vostra pelle. E' inoltre possibile diluire e bere un po' tutti i giorni per ottenere i suoi migliori benefici per la salute. Si tratta di un rimedio a casa altamente raccomandato ed efficace che si deve provare. Aglio L'aglio è il più semplice ed efficace rimedio domestico per il trattamento di infezioni fungine. Esso contiene un composto chiamato allicina, che possiede antibatterico, antimicotico e proprietà antiparassitarie. Queste proprietà consentono di contenere la diffusione di funghi e uccidere in modo efficace nel vostro corpo. Aggiungere l'aglio ad ogni vostra giornata di cottura al fine di ottenere i suoi migliori benefici per la salute. Consumare 4 o 5 spicchi d'aglio crudo al giorno se si dispone di una infezione fungina nel vostro corpo. Olio di cocco L'olio di cocco contiene potenti proprietà antifungine e antibatteriche. Sfregamento olio di cocco sopra le infezioni fungine della pelle vi aiuterà a curare l'infezione uccidendo i funghi residenti. Cucinare il cibo in olio di cocco previene anche le infezioni fungine nel vostro corpo. Sostituire saponi antibatterici con saponi a base di olio di cocco in cui possono causare ulteriori danni alla vostra condizione della pelle. Carote Carote contengono betacarotene, che è un potente antiossidante e mantiene i nostri tessuti corporei e pelle sana. Essi contengono una sostanza chiamata isocomarin, che presenta un effetto antimicrobico contro molti microorganismi.so, bere succo di carota al giorno per ottenere i suoi numerosi benefici per la salute. Se si dispone di una infezione fungina nel vostro corpo, vi aiuterà a combattere questa infezione in modo sistematico. Consumare frutta e verdura fresca Se si è affetti da ricorrenti infezioni fungine, potrebbe essere dovuta ad una immunità più bassa. Aumentare la propria immunità da mangiare cibi sani e l'abbondanza di frutta e verdura fresca. Carote, angurie, papaya, frutti di bosco, spinaci, sedano e broccoli sono alcune delle frutta e verdura che aiuterà chiaro il sistema di tossine. Migliorare le system.Tis digestive aiuterà il vostro corpo a combattere i funghi nocivi in modo efficace e contribuire a sbarazzarsi di loro al fine di curare l'infezione fungina.